Dopo le foto compare anche un video addirittura su sky.it, un video sull'attentatore o presunto tale di Brindisi che ha cliccato, azionato il telecomando e ripreso da una webcam su un chiosco di fronte alla scuola. Si vede questo signore che cammina su e giù nervosamente ma a un certo punto si gira, estrae qualcosa dalla tasca, fa questo gesto e poi dopo pochi secondi, dopo 3, 4, 5 secondi, l'esplosione. E poi tutta la gente che insomma si vede passare davanti allo webcam. Si presume che sia l'attentatore e gli attentatori si presume sempre che siano almeno due ma si sta indagando a tutto campo, dicono gli inquirenti. Almeno due perché ci sono dei testimoni che hanno visto che un paio di persone hanno appunto scaricato i giorni precedenti da un pick up questo ordigno, che era delle bombole di gas, mi sembra di aver capito. Comunque si indaga e questo mio video nasce proprio per segnalare semplicemente questo video dell'attentatore che clicca sul telecomando che si trova sul sito, ripetiamo, tg24.sky.it. Grazie. 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 Grazie.